Lucia San Siro! E poi ricordo sempre che quando si parla di questa canzone in realtà non si parla dello stadio perché è stato svelato poi negli anni che in realtà Vecchioni parlava della montagnetta di San Siro in cui con la sua 600, la sua macchina, andava insieme alla fidanzata. Ebbene sì, è questa un po' la storia che c'è dietro a questa canzone, ma noi l'abbiamo messa appunto ricordando invece e parlando di stadio. E' il 21 febbraio, è la settimana della Milano Fashion Week, non potevamo non parlare di questo, ne parliamo con la nostra ospite che è qui insieme a noi, Selin. Buongiorno Selin! Ciao, buongiorno, buongiorno a tutti. Allora come stai, come va? Bene, in realtà sono già stanca, inizio oggi. Oggi è il primo giorno praticamente, hai iniziato ieri ma ieri poca roba, giusto? Sì, ieri è più digitale, più digitale e inizia oggi e iniziamo con Iceberg e poi c'è Fendi oggi anche. Ah, ma tu le vedi tutte, no? No, no, no. E' impossibile vederle tutte, no? Anche se si vuole non si può, credo? Sì, non si può, non riesci. Sono insieme, non ce la fai? No, no, perché ogni sfilata ha un'ora, però normalmente inizia tipo 30 minuti dopo quell'ora. Perché tutti sono in ritardo, tutti arrivano in ritardo, quindi devi aspettare almeno 30 minuti. Spiega a quelli come me che la moda la seguono poco, cosa c'è di bello nella Fashion Week? Perché bisogna seguirla? Ma c'è tutto di bello, c'è tutto. No, perché ovviamente le marche sfilano le nuove collezioni e poi vedi tutto. Non lo so, ci sono tanti ospiti che vengono dappertutto, soprattutto per Milano Fashion Week. Però secondo me Milano e Parigi sono quelli più importanti. Siamo ancora tra quelli più importanti, Milano. Sì, sì. C'è anche New York, c'è anche altri, no? Non ci hanno ancora scalzato. No, no, no. Secondo me New York adesso sta riprendendo. London Fashion Week, secondo me... Non è ai livelli di Milano? No, è morta un paio di anni fa, però Milano e Parigi è davvero where it's at. Ecco, ma la cosa interessante appunto è cosa... tu sai già un po' che cosa vedremo, cioè che cosa... quali sono le tue aspettative verso questa Milano Fashion Week, che ricordiamo è donna, giusto? Sì, questo è donna. Donna e autunno, no, primavera estate del prossimo anno, giusto? Perché siamo avanti di un anno, giusto? Esatto, esatto, esatto. Che cosa ti aspetti di vedere? Non lo so, sinceramente non lo so, forse è un botto di denim, secondo me. Ah, torna il jeans. Torna il denim, c'era già l'anno scorso, però penso adesso anche florals. Floreale? Sì. Ah, ok, floreale. Secondo me, perché torna Marni qua a Milano. Chi è Marni? Marni. Spiegami, non sono minimamente chi sia, quindi devi spiegarmi tutto. No, è una marca, è una marca, diciamo che concentra con tanti colori, tanti stampe, quello molto elegante ma molto molto creativo. Ah, ok. Sì. Quindi il floreale diventa anche un abito elegante non solo per andare a fare il picnic al parco, Per tutto. Per tutto. Devo dire che anche Selina, infatti oggi si è messa, sei molto fashion anche tu questa mattina, infatti, sei messa in linea, giusto? No, ma devo essere fashion week. E quindi il jeans che hai su è perché c'è il ritorno del denim, giusto? No, ma guarda, anche questo qua è un po' denio. Ah, anche quello sopra. Ho fatto l'abbinamento oggi. Ecco, ecco, ecco. Bene, allora oggi ne parliamo con Selina che rimane qui con noi perché vogliamo capirne di più di questa strana settimana che fa impazzire tutti quanti, anche milanesi, ma per altri motivi. Milanesi impazziscono per altri motivi. Per il traffico. Per il traffico, per il rebelot che c'è in giro. Non so come si dice in inglese rebelot, ma spero che tu abbia capito. Invece arrivano tutti a Milano per vedere questa fashion week, no? Tutti, tutti. Le star che sappiamo già che saranno da queste parti? Oh, ci saranno tutti, tanti cantanti. Cioè, Cani era ieri, mi sembra. Ah, Cani era qua per... Era ieri sera allo stadio, quindi rimarrà per... Rimarrà sicuramente anche perché lui sarà... Ma che problema ha che va in giro col passamontagna? Non ho capito, che problemi ha? È un icon. Ah, ok, così. Forse non ha messo la crema solare. Ah, ecco, quello può essere, può essere. No, perché non sembrava uno che dovesse fare una rapina allo stadio, non capivo. Io pensavo fosse un ultra... Quando ho visto la foto e non ho letto il titolo, ho pensato che ci fossero degli ultra che avessero fatto chissà cosa allo stadio, faccino rosi che avevano messo a ferro il fuoco allo stadio. Poi ho guardato e ho detto, ah no, ma è Cani questo. No, ma Cani è così. Comunque rimarrà qua e sicuramente andrà alle sfilate, anche perché tra un paio di giorni ci sarà anche il suo listening party, secondo me. Eh, ma a Milano? Sì, sì. Ma a Sago. Ma poi lui ha messo i cori dell'Inter nel suo ultimo disco. Ma com'è questo amore per Milano? Da cosa è nato? Eh, non lo so, però è una cosa che tutti si sono infazziti. Eh, infatti, infatti, siamo rimasti molto molto colpiti. E allora andiamo con un po' di musica. No, non è Cani, ma è Angelina Mango, direttamente dalla Festival di Sanremo, la vittoriosa Angelina Mango con La Noia, che è quella roba che i milanesi dicono, no, la settimana della moda, che noia! E invece, invece, Selin ce lo racconta bene. A fra poco! È la cumbia della noia, Angelina Mango, ma la noia non ci assale qui, perché con Selin cerchiamo di capire tutto quello che c'è da sapere sulla Fashion Week. Sulla Fashion Week. Allora, la Fashion Week, prima di tutto, partiamo dalle basi, no? L'ABC, i fondamentali, come nel basket. Ok. Allora, quante volte all'anno c'è la Fashion Week? Due volte per donna, due volte per uomo. Ok, quindi in totale quattro volte per il traffico. Sì, però... Ah, però... Poi, ai Parigi, Hot Couture, anche. Che fanno a Milano? No, lo fanno a Parigi. Però a Milano ci sono quattro. Ok, a Milano quattro, perfetto. Quattro, quindi va bene, il traffico quattro volte, invece due per uomo, due per donna. Perfetto. La Fashion Week fa vedere, fammi capire se è così, quello che noi dovremmo più o meno indossare, o comunque l'idea che gli stylist hanno avuto, per noi, per il prossimo anno, giusto? Esatto, esatto. Quindi se si fa adesso, che è inverno, è per l'estate del 2025. Esatto. Giusto? Ok, perfetto. Io non mi ricollerei neanche cosa, ma mi hanno fatto vedere. No, è quella collezione per l'anno dopo. Per l'anno dopo. Esatto. Ok. Quello che vediamo alle sfilate, è quello che poi vedremo nei negozi? Sempre? In generale, sì. Ok. Quello è Ready to Wear. Ah, ok. Quindi noi vediamo già quello pronto. Sì, puoi vedere con la collezione là. Ok. Quindi quando vediamo invece quegli abiti strani, così non le vediamo durante le fashion week, sono altre cose, quando vediamo tutti quegli studi, quelle vabbe. Ma anche sì, anche sì, dipende dalla marca, dipende dalla designer, però quelli molto, molto più creativi, sono più haute couture. Ok, ok. Ma, quante sono più o meno le marche, cioè i marchi e le studiate ci saranno più o meno, nel senso, non voglio sapere precisamente, ne sono solo un qualche centinaio immagino, nel senso. Sì, no, no, tante, perché diciamo che in un giorno forse ce ne sono 15. Ah, però? Tra 10 e 15, dipende. Ed ecco il motivo per cui è impossibile seguirle tutte. Esatto, esatto. C'è una ogni ora. Ok, quali non si possono perdere? Oh, secondo me Prada, sicuramente Prada, Prada, Armani. Adesso, Giorgio, non me ne vuole dire, nel senso, grande, viva l'Armani, l'Olimpia Milano e tutto. Ma non sono sempre uguali? Eh? Non si sembra, si sembra la stessa roba. No? No, 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 perché per me, secondo me... Oggi sono visto Armani un po', Cioè, il maglioncino blu così, io sono sempre uguale. No, per donna, almeno per donna no, secondo me no, perché ogni collezione ha una tema, normalmente da una origine, da un paese, e davvero una masterpiece di lui, cioè, mette tanto a creare questi pezzi incredibili, con così tanto dettaglio anche. Però, io direi, Armani, Ferragamo, Bottega e Prada, secondo me. Questa è la tua top, perché non si può... Non si può, no, no. Quante riuscirai a vederne tu? Oh, non lo so, però noi, lo so già che Emi mi odierà, perché saremo in giro per ogni giorno. Ah, perché tu sei come tutte quelle che parlano di moda, hanno un povero fidanzato che le segue a fare foto, video, giusto, è così, no? Come si chiama? Salutiamolo, come si chiama? Emi. Emi, siamo tutti, siamo tutti con te, sappilo, siamo tutti solidari con te. Hashtag, io sto con Emi, va bene? Esatto. support group. Infatti, io fossi in te, farai il backstage del backstage, un profilo tuo dove fai vedere la mia povera vita durante la Fashion Week. Il mio POV, sì. Infatti, e tu cercherai però di portare a casa, diciamo, il più possibile di informazioni, di interviste. Chi è che ti piacerebbe intervistare, che magari non hai ancora potuto intervistare in questi anni? Sai che, no, anche un'altra sfilata che non dovete perdere è Gucci. Ah, Gucci. Vorrei andare a Gucci perché là... Perché vuoi dei regali per quello? No, sì, però in generale ci sono tanti cantanti che vanno da Gucci, perché Gucci ha questo allegamento con gli artisti. Sì. Quindi per andare là, intervistare dei cantanti anche internazionali. Ma questo legame appunto di una Maison con i cantanti, è proprio una strategia di marketing che porta poi ad avere ancora maggiore appeal sul pubblico finale? Certo, 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 perché tu hai, un accesso non solo ai attori e influencer, però anche ai artisti che adesso, ma anche da anni, hanno questo allegato della moda anche da Versace. Sì, non so, io mi ricordo i run DMC che si mettevano le tute dell'Adidas, che fosse una delle prime cose fatte nella storia, così anche unire una roba che non era di haute couture, ma era molto l'Adidas, e visti i run DMC che potevano mettere solo Adidas. Hai visto Sanremo? Sì. Allora, parliamo invece di Sanremo un attimo, fashion e Sanremo, moda tantissimi, elegantissimi, chi ha vinto secondo te però dal punto di vista della moda a Sanremo? Ti do il mio top three? Vai. Ok, c'è Clara, Gali e Mahmood. Ah, è Clara molto elegante, devo dire. Molto elegante, la sua stilista ha fatto un bel lavoro là. Gali ha anche messo, beh, molto particolare, devo dire, e Mahmood che, quando è uscito con il vestito dell'amoroso, stava meglio che l'amoroso. Sì. Stava benissimo, effettivamente nulla da dire, con la spalla scoperta. Ma lui ha sempre un bel stile, Mahmood, il suo stilista lavora bene. Quindi ormai non devi essere più bravo solo a cantare, devi essere anche bravo ad avere chi ti veste bene. Ma perché tutti ti guardano, soprattutto su Sanremo, cioè non è solo una... Una competizione canora. No. Ma è proprio un grande show, o molti di noi, un grande baraccone, un gran circolo definiamo, ma no, invece è un grande show e ne abbiamo visto anche che infatti continuiamo a parlarne dopo settimane e continuiamo a parlare anche i giornali. Hai nominato Mahmood e allora andiamo con Tutagold. Ed è zucchero per colpa di chi? Mia sicura no. Selin, non so se è colpa tua, sicuramente adesso però. Selin, fuori onda, ma hai detto, parliamo di come potrei ripensare al tuo stile, cioè al mio. Il tuo stile, sì. Oddio, ho paura. Selin, parliamo della tua. Fai tu, parliamo della mia, fai tu, dimmi tu, cosa devo fare per migliorare o peggiorare il mio stile, perché magari è già così alto il mio stile che devo invece peggiorarlo. Esatto. No, ma stile è una cosa molto personale, è un modo di esprimere, di messi. Quindi io voglio sapere, tu quando ti svegli, tu dici, ah io voglio mettermi questo, però perché? Allora, io quando vengo a fare la trasmissione la mattina, voglio mettermi la felpa, stranamente oggi non sono in felpa, voglio mettermi la felpa perché sono comodo. Comodo, quindi per te il stile è per essere comodo? Dalle sette alle nove sì, dopo si può anche invece migliorare, ma dalle sette alle nove deve essere comodo. Comodo, ok, però quindi dopo le nove, sì. Cosa ti metti? Dopo le nove, se non ho niente da fare, rimango con la felpa, devo dire la verità. Se no, vabbè, camicia e bretella. Ok, ok. C'ho la bretella anche sotto qua, con la maglietta, vuol dire, c'ho la bretella sotto anche oggi. E quindi come puoi descrivere il tuo stile? È uno stile casual, comodo, ma che strizza l'occhio all'eleganza. Ok. Mi piace come... E se tu hai un evento? Sì. Cosa ti metti? Ah no, lì ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho. C'ho proprio un vestito d'ordinanza, mio vestito blu, ok. Di solito sto sui blu, ok. Quindi blu, azzurro, blu, c'è uno anche blu, un po' scozzese, ma sempre blu è. Scarpa da ginnastica però. Perché? Perché mi piace. Ok. Proprio perché mi piace, nel senso, si poggio su di di stivaletti, ma mi piace più scarpa da ginnastica e camicia tipo rosa o bianca o comunque un colore chiaro con la cravatta in tinta con le bretelle. Ok. Sì. Va bene, diciamo... Ricercato, ricercato. Sì. Fa schifo a vederlo, ma è ricercato. Mi viene male alla fine, però l'idea c'è di base. però l'idea ti piace? Sì, sì, molto, molto, molto. Ok, ok. Ma c'è una persona in cui tu dici, wow, mi piace il suo stile, vorrei vestirmi così. Urga. Eh, questo è importante. un po', la bretella richiama un po' Larry King, che voi non conoscete, è un giornalista americano così. Eh, aveva una show, scusami. Aveva sì, The Night King Show, infatti quello, non so, eh, non lo so, sì, un po' così, un po' da camicia, ma camicia e bretella mi piacciono tanto, quindi, chi è che potrei fare? Sì, Larry King, adesso, Oggiano si veste così, ma secondo me ha copiato lui da me, perché in più anni che sono in giro io, e non lo so, no, non lo so, saluto Oggiano, e attualmente non saprei, cioè farei difficoltà, appunto, se uno va in giro come Kenny West, col passamontagna, faccio fatica a pensare di vestirmi come lui, capito? No, ma certo. O la tuta gold, cioè farei fatica a metterla, cioè, ma capisci che non è facile. No, vabbè, cioè, stile è una cosa molto personale. Non lo so, chiedo l'aiuto da casa, regia, a chi posso ispirarmi? Cioè, in realtà c'è una persona che mi ha sempre ispirato, ma anche lì non lo conoscete, forse sì, non so, che era Chiambretti, che metteva lo smoking con la superga bianca sotto, e mi piaceva tanto. ok, comunque c'è un casual chic. Sì, sì, mi piaceva tanto quella roba lì. Poi ho scoperto ogni dopo che era di Torino, ed era sponsor della, della marca della superga, lui, però va bene, cioè, però mi piaceva. c'è l'habital suit, con i trainers, è una cosa molto casual chic adesso, cioè, è una cosa che invece di andare tutto con una suit, con la camicia, tutto, puoi anche fare l'abito con una maglietta bianca o nero sotto, se è ancora chic, però un po' più casual anche. Ecco, la maglietta e la giacca non riesco a metterla, nel senso che abbiamo fatto un esperimento ieri, ed è stato fallimentare, no, nel senso, diciamo che non ho il physique du roll, di aver mettere la maglietta sotto la giacca, vabbè, anche perché... non mi si chiudeva neanche la giacca, quindi insomma, era un po' un problema. Dipende anche che tipo di maglietta ti metti sotto. Ha una bellissima maglietta di Pingu, ci tengo a dirlo, insomma... Non so se è proprio il vibe dell'abito, però ci può stare. Ma invece tu a chi ti ispiri? Cioè c'è qualcuno a cui ti ispiri come stile? Come stile, cioè non c'è una persona, però per me mi piace un mix delle cose vintage, anche perché nel mio guardaroba c'è un botto di vintage, le cose della mia mamma, la mia tia. bello. Quindi un vintage con un tocco di contemporaneità, cioè... Ah, vedi. È come ascoltare i Beatles con l'iPhone 15, che è un concetto è quello. Cioè un tocco di vintage con un tocco di modernità, beh, ci sta. Esatto. Ma è importante ispirarsi a qualcuno o a qualcosa per avere il proprio stile? Ma soprattutto è importante avere uno stile? Secondo me sì. Sì, perché per me è una parte della tua identità, cioè è una parte di esprimersi, perché non è... cioè tu non hai una personalità solo dentro di te, ce l'hai anche fuori. C'è un modo di vestirti come a te piace. cioè ci sono persone che non sanno proprio come vestirsi, però forse è perché non sanno proprio come esprimersi in quel modo. Ah, chiarissimo, chiarissimo. E invece chi come me, ma questo me lo dici dopo, perché adesso poi invece andiamo veramente con Mahmood, tutta gold, che prima non è partito, ma adesso l'abbiamo messa in scaletta, chiedo scusa all'ufficio programmazione. come si fa invece? Perché io vorrei essere tutti i giorni cravatta, bretella, in colore, con la cravatta, camicia e così, ma voi sono cappellino da baseball e felpa. Cioè ho questa dicotomia interna, come faccio? Questa lotta interna, me lo dici dopo colui che invece ha portato al successo, una tuta gold, che gli hanno chiesto, ma cosa significa tuta gold? Eh, è una tuta gold, semplicemente, cioè non era così difficile effettivamente. Mahmood, tuta gold! Buongiorno Vita, buongiorno a tutti, buongiorno Good Morning Milano. 8 e 21 minuti, ancora qui con Selina, stiamo parlando di Fashion Week e di moda, e la domanda era questa, allora, come facciamo a far convivere, ad esempio, uno come me, che ha dentro di sé una dicotomia? Da una parte vorrebbe vestirsi, come prima suggerirono anche Jackie Stewart, quindi con magari la cavattina, il gilet, il vestito un po' elegante, ma comunque un po' british, ma dall'altra parte, quando esce poi e vede la sua bel felpone rosso, il suo bel cappellino da baseball, mette su quello ed è felice e contento così. Beh, in ogni caso c'è la comodità e poi c'è la moda. Puoi anche fare tutti e due insieme, però per me, secondo me, comunque, se tu hai uno stile in cui tu vuoi vestire così, devi provare, devi provare anche per capire se ti sa bene, perché forse ti piace... Allora, io sto bene con tutto, per te con questo presupposto, quindi no, ma il problema è la pigrizia in realtà in quel momento. Eh, devi... Io so di stare... No, adesso, seriamente, cioè, so che sto bene se mi metto la cravatta, la giacca e la cosa, però poi, cioè, il suo provvento non prende la pigrizia e la comodità. Eh, vabbè, anche me, cioè, anche io posso uscire con una hoodie e denim, e sono comoda. quante volte l'hai fatto in vita tua? Vai. No, no, tante. Ah, sì, ok, quando ero una studente, cioè, vivo solo quello. Ah, ok. Però, ehm, c'è anche una riflessione di te, quindi, se tu hai un evento, o vuoi svegliarti dalla mattina e dici, wow, cioè, ho tutta questa energia, voglio vestirmi bene, voglio che tutti mi guardano, voglio sentire bene, devi vestire bene, perché ti dà anche quella push, dal tuo ego, della tua personalità. Forse il tema è quello, che facendo la radio non mi vedono, e allora un po' me ne sbattono. Non è vero, perché invece se mi guarda anche su Milano News, mi vedete, anzi, un saluto a chi ci sta guardando in questo momento in diretta video su Milano News, che rivedrà poi anche gli interventi di Selin, nel nostro podcast, video podcast, su Spotify, su Apple Music, Google Podcast, e sul sito, anzi, abbiamo anche un sito, sai, da questa settimana, abbiamo il sito del programma, goodmorning.milano.it, mi faccia di così se muore. Quindi bisogna, ma io vedi, il tema è questo, comodità e moda possono convivere? Sì, sì, cioè non è che devi stringersi per mettere qualcosa. Nel mio caso sì, perché la mia taglia è difficile da trovare, insomma, quello è un altro discorso. No, ma è più un fatto che, cioè, ti dovrebbe fare piacere, vestire bene, anche perché è più una cosa divertente, anche cercare delle cose che ti piace, che puoi mettere insieme. Se è una cosa di pigrizia, mettilo al guardalova, il giorno prima, così, al tuo faccia, quando ti svegli, ok, io voglio mettermi questo domani. Eh, io lo faccio, penso, io lo faccio con la felpa, con la roba lì, me la preparavo la sera prima, me la preparavo comunque la felpa. Con le felpa. Sì, quello sì, quello sì, come dicevo, ma prima io sono un po' malato di felpe, come dire, sai che c'è il malato di sneakers, no, che hanno tutte le sneakers, ho messo un malato di felpe, felpe completamente anonime, ma che mi piace avere di tutti i colori possibili. Vabbè, puoi anche mettere una felpa fashion, con i pantaloni fashion e i sneakers, e là c'è la comodità, però in stile. Ah, ok, devo riuscire a unire le due cose, adesso devo vedere un po' come si veste cani, e capire un po'. I buy the Carhartt. Chi? Carhartt. Ah, ok, Carhartt, per chi dice come me, ok, ma noi possiamo dire, chiedo al presidente, in questo momento sarà sicuramente in ascolto, ma possiamo dire liberamente su tutte le marche, o facciamo la fine di Amadeus a Sanremo, no, giusto per capire, vorrei capire. Però no, non siamo pagati né io né Celine, da nessuno dei marchi, anzi, se però volete, noi siamo pronti, volendo. Staremo felici. Ecco, Celine è prontissima a fare la testimonian, nel caso, va bene, andiamo con Big Mama. I giornalisti, con felicità puttana alle 8 e 33 minuti, qui su Crystal Radio, Good Morning Milano, di oggi mercoledì 21 febbraio, stiamo parlando appunto della Fashion Week di moda, insieme qui a Celine, che insomma ne sa tanto, ci racconta, poi stai già facendo dei contenuti, ho visto, sei già in giro a fare contenuti, oggi tutto il giorno. No, ma io ho questa cosa, che voglio fare un video ogni giorno, quindi. Un video ogni giorno, ok. Good luck to me. Ogni giorno un video, una clip fair, una fashion clip every day, ok. Attenzione allora, perché se giri a piedi o con i mezzi, non c'è problema, ma se giri in macchina, attenzione che ci sono gli autovelox, perché vi dico questa cosa, perché da Corriere della Sera Milano, Fleximan colpisce anche a Bucinasco, ebbene sì, abbattuti quattro autovelox, installati da poche ore, nel comune di Bucinasco. Il sindaco Pruiti dice, certi gesti non ci intimidiscono, ovviamente non sappiamo se è il Fleximan originale, o qualcuno che faccia la sua parodia, sta di fatto che appunto, quattro sono gli autovelox di Velti, nella città appunto, nel comune di Bucinasco, ricordiamo zona sud-ovest della città, lungo il Naviglio. Quindi attenzione come è andato in giro, non si può girare in macchina, impossibile. No, no, in macchina no, non ci arriviamo mai. Oggi quali sono gli appuntamenti della giornata? Oggi in realtà Fendi. Fendi. Fendi è quello che vogliamo andare. Ok, ok. E che cosa racconterà nei tuoi video questa settimana? Questa settimana sarà un mix di, cioè domande sulla musica, e anche e soprattutto di Milano. quindi tipo qual è la canzone che hai nella tua testa in questo momento? Ah. Ebbene, io quell'ultima che è andata. Io cambio ogni quattro minuti perché in base all'ultima che va mi rimane in testa. No, devo dire che... No, forse una delle canzoni in più è La Noia di Angelina. La Noia è tutta gold. Eh sì, sì, sono quelle lì, non puoi non averle in testa. Se invece pensi a Milano, che canzone ti viene in mente? Se penso a Milano, che canzone? Sì. Sì, ma non lo so, come straniera, cioè è molto più facile per me allegarlo alla felicità perché ogni serata che andiamo fuori mettono felicità e ci sono tutti che lo urlano. Cioè, pensa che è una canzone di più di 40 anni fa e ancora fa... Sì. Fa il suo, fa il suo corso, no? Cioè, veramente. Comunque, è dell'82, credo, se non sbaglio. Dall'82, eh, guarda. Sì, quindi insomma, pensate, sono quasi 40 anni. Insomma, non male, non male e... sono più di 40 anni. Comunque, no, io penso, l'abbiamo sentita poco fa, l'abbiamo sentita questa mattina, Luce San Siro, per me è una delle canzoni che leggo a Milano e parla di Milano e secondo me è una di quelle canzoni che racconta proprio anche uno spaccato dell'artista e della canzone milanese. Poi, va bene, non so se tu conosci tutto Gab, Riannaci, quel mondo lì di musica e canzoni che hanno a che fare con la città. Magari, ecco, compiti per la settimana prossima. Ci rivedremo qua la prossima volta. Selin, vai un attimo a scoprire Giorgio Gaber ed Enzo Iannaci. Ok. Non so quanto una che arriva da Londra possa capire di quella roba lì, nel senso che è un po' complicata, però magari invece... Vabbè, provo. Infatti, perché no? Magari inizia con Gaber, perché Iannaci, però anche i milanese sono un po' più difficili. Alcuni passaggi magari sono un po' più complicati, ma so che ci sono le canzoni con i sottotitoli anche. Ok, top. Quindi c'è tutto, c'è tutto. Chissà che magari non esiste anche qualche versione tradotta in inglese, secondo me, perché potrebbe essere, ormai è internazionale. Comunque, vi ho dato un po' di indicazione, appunto, attenzione agli autovelox, attenzione anche a Fleximan, anzi, poi nei prossimi giorni sentiremo anche il sindaco Pruiti, cercheremo di capire davvero che cosa sta succedendo in quella di Buccinasco e attenzione oggi se circolate per la città, perché appunto la Fashion Week è ormai nel suo pieno svolgimento. Oggi inizia col botto, andate avanti fino a venerdì, giusto? Anzi no, sul weekend? No, fino a domenica. Fino a domenica, fino a domenica. Fino a domenica, tutto il weekend, quindi armate di santa pazienza. I luoghi della Fashion Week sono ovunque però, nel senso non c'è. Tipo oggi dicevi che vai da Fendi. Fendi. Fendi dove lo fa? Via Solari. Ah, ok. Via Solari. No, ma in realtà sfilano ovunque. Ovunque? Cioè ovunque, non c'è mai un posto ormai. Posto più assurdo in cui hai visto una sfilata? Oh, posto assurdo. Vabbè, assurdo non lo so, però era strano ma bella, era la Besana. Ah, la rotonda da Besana, bella. Sì, sì, no, ma un'idea pazzesca. Sì, sì, bella, Penso che ogni anno ci siano sfilate lì, perché mi ricordo che tantissimi anni fa c'era già stata qualcosa. all'interno della rotonda da Besana è un luogo un luogo pazzesco. un luogo bellissimo anche di farlo. Era Max Mara due anni fa. No, era bello. Bene, bene. Dopo, sentiamo bene, ci dà qualche indicazione su magari anche come fare a imbucarsi. Si riesce a imbucare in qualche maniera o no? Ci dà qualche indicazione? Di entrare. Eh, si riesce in qualche maniera. C'è qualche scamottaggio che si può fare? Io l'ho fatto, devi avere tanto, tanto... faccia di merda se dici in italiano. Esatto, anche quello. Scusate. Confident, you have to be confident. Ah, cioè devi credertela. devi far credere. Sì, esatto. Se tu te la credi, cioè, bam, sì, sì, Come io no? Io sono parte delle liste, devi farmi entrare. sono qua, è casa mia, questa c'è. No, ma ovviamente c'è. Sono un signor Besana. Ci sono quelli che sono proprio impossibili. Foo Fighters con The Glass, 8.42 minuti, Cristian Radio, Good Morning Milano, settimana della Fashion Week, stiamo parlando appunto di moda e fashion insieme a Stelene, che, dicevamo Stelene, in realtà tutti fanno a botte per poter entrare alle sfilate, no? Ci si trova, ci si inventa di tutto di più per poter entrare, ma poi il vero spettacolo è fuori, però. È vero, no, no, è vero, perché, cioè, quando arrivano gli influencer, le modelle e attori, tutti i star, cioè, camminano per un botto di tempo solo per prendere quelle foto street style. Cioè, vanno avanti e indietro davanti all'ingresso, quando potrebbero benissimo entrare, ma solo per farsi fare le foto. Sì, sì, perché vogliono le foto, perché ovviamente sono quelli che vedi sui social, quindi per loro è pubblicità e hai tutti i fotografi che aspettano fuori, anche, quindi, hai anche i studenti di moda, tutte le persone che sono appassionate di moda, che si vestono bene e sfilano anche loro fuori, quindi, c'è proprio un show anche fuori. Adesso vado a comprarmi anche un bel vestito, quello da dinosauro, quello lì che si gonfia e domani vado avanti e indietro davanti a Prada, avanti e indietro, faccio così, va bene? vai, vai. Viene l'ambulanza per portarmi via, ho paura, ma, appunto, cioè, c'è qualcuno, secondo te, l'influencer, nasce con la moda, diciamo, forse Chiara Ferragni è stata la prima, no, che ha iniziato a parlare di quelle cose lì e tutto, è inventato poi un mondo, è nato un mondo da lì, no? Continuano a esserci, però, gli influencer. Crescono. E crescono sempre di più, sempre di più, un po' come l'erba grama, no? Scherzo. No, ma, chi è che, secondo te, adesso bisogna seguire per avere un po' di idee serie. Sì. Oh, questa è una domanda bella. Oltre a Selina, ovviamente. Oltre a me. Vabbè, ci sono un bot di giovani su TikTok che adesso sono stati invitati alle sfilate, soprattutto a Prada, e stanno prendendo tanti giovani su TikTok, però poi ci sono anche quelli su Instagram che sfaccano e sono sempre stati invitati, soprattutto quelli, diciamo, di Londra e USA, cioè, tutti hanno un stile completamente diversa, quindi, se tu vai su Instagram sicuro ci sono... Chi è l'influencer numero uno adesso sul mondo della moda? Oh, numero uno, penso per contenuti, è Leonian, che lei è, penso, tedesca, però è passata a Londra però she signed a un'agenzia qua a Milano e lei fa contenuto di tutto, 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 non c'è una marca in cui non ha lavorato, quindi, per lei, Fashion Week è una cosa che tutti i fotografi, tutti i content creators aspettano per lei per arrivare. C'è anche... quindi non si cerca più Anna Wintour adesso, ma si cerca... Ma anche Anna Wintour, sai che quando sono andata alla sfilata di Max Mara c'era Anna Wintour proprio accanto di me, c'era la bodyguard che mi ha spinto, io ero tipo, cosa sta succedendo? Faccia di me quello che vuole, ma sono qui per Anna. Eh sì, no, cosa sta succedendo? Mi sono girata, ho visto la Bob di Anna Wintour, ho detto, ok, va bene, tu mi puoi spingere quanto ne vuoi. è ancora un mito indiscusso. Sì, certo, poi hai anche l'editor di Vogue Italia, Francesca Ragazzi, e lei anche molto importante per Milano Fashion Unite. Eh ma appunto, queste sono riviste, cioè una cosa che sembra ormai morta e stramorta nel mondo comune, normale, invece nella moda non è morta. Cioè il digital, sì, ma questa roba qui c'è, la rivista, Vogue, e chi per esso, e le altre, funzionano ancora. Funzionano ancora, perché sono quelli, cioè Vogue è quello numero uno. Se non c'è Vogue, a chi altro vai? Va bene l'Officiel, Harper's Bazaar, però Vogue è Vogue. Ci sarà sempre. E sempre sarà così, da quanto abbiamo capito. Andiamo con un po' di musica intanto, allora, The Chainsmokers con Haig. Haig, Chainsmokers, anzi, dimmelo tu, com'è che si chiamano? The Chainsmokers. Con Haig. 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 Ah non c'è, la G final non c'è. Sì. Mamma mia, dovremmo fare un corso English for Dummies con Celine. Crash course con me. Eh sì, dovremmo fare una cosa così, perché è davvero complicato, ebbene, com'è che si chiama l'acqua? Water. Eh, cosa è difficile, cosa è difficile, ogni volta, water. 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 Non c'è l'R. Ah non c'è, water. 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 esatto, ce l'hai. Ricordo, ricordo una bellissima puntata di Piff con il testimone che praticamente fanno dieci minuti a cercare di dire water. Water. Sì, perché poi c'è un americano, un italo-americano, lui, un inglese, sembrava una barzelletta, sembrava. Fashion Week, quindi, stiamo parlando di moda, moda, abbiamo parlato della comodità, abbiamo parlato di rifarmi il look, abbiamo parlato degli influencer da seguire in questo momento, soprattutto le sfilate, mi hanno detto, no? Le sfilate, oggi, quelli più importanti sono Fendi, c'è anche, secondo me, c'è anche Onitsuka Tiger che è da seguire. Questo lo conosco. Onitsuka Tiger. Ma sono scarpe da ginnastica, però no? Sì, esatto, però è anche una marca di streetwear. Ah, quindi non fa solo scarpe, fa anche pantaloni e felpe. Esatto. Mi fa le felpe? posso pensare. Ma c'è giacche, vestiti, no, ma molto figo. È giapponese, cos'è? Giapponese. potrei, signor Onitsuka, sentiamoci, mi provo a dare il look per venire qui in onda a parlare tutti i giorni a Good Morning Milano. io ti vedo in Onitsuka. Mi vedi? C'è una tuta, una tuta Onitsuka ci sta. Ci sta, io in tuta. Tutta Onitsuka. Non la metto l'84 la tuta quando facevo ginnastica all'asilo. Eh, però con la radio... Con le toppe sui ginocchi, perché con i ginocchi rotti. Con la radio è tutta la nylon, forse non è la... No, la cosa migliore. Prendo fuoco. Rischio di autocombustione da nylon e cavi elettri. No, dico per il suono. Ah, per il suono. Esatto, esatto, Screccio, sembra che screccio. Benissimo. Domani cos'è? Che programmi hai invece per la giornata di domani? Oh, domani è Prada. Ah, domani è tutta la giornata Prada? No, domani c'è tanto. Aspetta che abbiamo qui. Veloce. Ecco, ma aspetta, tu stanno su un sito a vedere, ti sei fatto un Excel tuo, un Google Maps. Ce l'ho il mio agenda, però c'è anche il calendario. Come si chiama la tua agenda? Amy. Amy. Si chiama così, dobbiamo scoprire. In realtà no, si chiama Celine's Calendar, perché se chiedo a Amy, il calendario è perso. Lui, lui, povero Amy, lui ti porta in giro, mi ha capito la sala. Porta in giro, fa le foto, fai video, quante volte ti fai rifare foto e video ogni volta? Io lo rifaccio fare un paio di volte. Ecco, va bene, poverino, santo subito. No, lui deve avere un po' di pazienza con me. Va bene, tranquillo Amy, succede solo quattro volte all'anno. Esatto. Va bene, dai, è una tassa. No, domani, in realtà oggi c'è Fendi, Diesel, forse, oh, Etro anche stasera. Etro? Etro è quello di guardare anche. Poi domani, quello importante è Prada, sicuramente, e c'è anche Emporio Armani. Ah. E Tom Ford alla sera. Venerdì c'è Blue Marine, importante, Tods, Gucci, Marni e Versace. E sabato c'è Ferrari, Ferragamo, quello importante, Missoni. Missoni, Missoni, wow. Bottega Veneta. Domenica. Domenica. C'è Giorgio Armani. Ah, si chiude col botto, si chiude? Si chiude sempre con Giorgio Armani. Ah, lui è il padrone di casa. Vedete quanto ne so? Cioè, io so che i concerti di Vasco Rossi chiudono con Alba Chiara, ma non so che la Milano Fashion Week chiude sempre con Armani. Chiude sempre con Armani. Armani è l'ultimo sempre. No, l'ultimo no, però lo fa sempre l'ultimo giorno. L'ultimo giorno chiude lui, perché così si chiude con il botto. Céline, grazie mille davvero per essere qui con noi questa mattina. Grazie a voi. Siamo in chiusura, ricordaci invece le tue coordinate, dove possiamo seguirti sui social e quello che fai sui social appunto. Certo, sui social mi puoi trovare su Instagram a chiocciola selin natur. Selin natur. Esatto. E poi musica bella da Dio. Musica bella da Dio, esatto. Insomma, i tuoi video, le tue incursioni nella nostra città, abbiamo visto sia in veste in italiano che in inglese, abbiamo visto ormai mix tranquillamente, quindi insomma, abbiamo visto una bellissima intervista a Clara, dove anche lei, un inglese, ma complimenti. Lei ha la mamma che è un'insegnante di inglese, quindi è molto fortunata. Si lamentava del suo inglese, intanto tutto, è troppo facile, troppo facile così. aveva l'accento perfetto comunque. Perfect, lovely. Perfect, perfect accent from London. Benissimo, allora Selin, grazie mille davvero di essere qui con noi. Grazie mille. Thank you, anzi come diceva qualcuno prima di noi, thank you, e quindi noi andiamo invece con la nostra sigla.